Sì, c'è la futura volley giovani e qui c'è la nostra schiacciatrice, Anna Fuglisani. Anna, una bella vittoria, finalmente ci voleva, è stata in promozione. Come è stata in campo? Emozionante, sapevamo che non sarebbe stata facile, anzi diciamo che non ci aspettavamo neanche la vittoria in realtà perché dopo una serie di sconfitte come quelle che ci sono state è sempre più difficile e ci serviva, c'è il servito e sicuramente ci servirà per l'ultima di campionato, di stagione, peccato perché abbiamo trovato questo ritmo e questo equilibrio tardi però sono tanto contenta, ci siamo divertiti tanto e avanti con il così, in bocca al lupo a noi, siamo tanto contenti e adesso un po' di riposo. Grazie. 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 Grazie.